L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme con la guerra in Ucraina, dove il tasso di vaccinazione del 34% rischia di peggiorare la pandemia da Covid. Il rischio significativo riguarda soprattutto un numero maggiore di forme gravi della malattia e di recessi, anche perché numerose sono le strutture sanitarie danneggiate, con il rischio di interruzione dei servizi. In Italia, da oggi, restano in zona gialla solo Calabria, Lazio, Marche e Sardegna e intanto il Consiglio dei Ministri ipotizza di eliminare l'obbligo di Green Pass al chiuso dal 1 maggio.